Come tutte le occasioni di discussione del bilancio è stata una discussione abbastanza lunga e articolata, devo dire anche molto produttiva, questo nuovo consiglio ha dato la possibilità di sviluppare una dialettica importante su temi che avevamo toccato nella nostra manovra e poi perfezionato con il maxi emendamento. Devo dire che io sono molto soddisfatto, il sindaco e tutta l'amministrazione è soddisfatta perché non abbiamo solamente chiuso un documento di programmazione dell'annualità 2016 ma abbiamo annunciato anche con numeri una svolta che questa amministrazione vuole dare all'ente in una programmazione di lungo respiro. Infatti noi già a partire dal 2016 abbiamo immaginato di avviare attraverso impegni concreti con progetti già canterabili una serie di interventi importanti, uno fra tutti quello dedicato all'illuminazione della città ben 67 milioni di rinnovo dell'illuminazione che va nella direzione non solo dell'efficienza energetica e quindi un risparmio della cosiddetta bolletta che paga il comune ma addirittura in termini di sicurezza della città perché ovviamente si va ad incidere sulla razionalizzazione, l'illuminazione complessiva della città. Poi la cosa fondamentale è aver trovato immediatamente le risorse per la funicolare centrale perché questo è un aspetto fondamentale che essendono molti cittadini perché la funicolare centrale è uno sdono importante per il traffico tra la parte alta e la parte bassa della città. Quindi questo ci dà la possibilità immediatamente di aprire il cantiere e di immediatamente iniziare i lavori e accorciare al massimo la chiusura della funicolare. Ci sono importanti risorse per la mobilità, abbiamo oltre ai 98 milioni previsti con il Pornmetro per i treni, abbiamo messo ulteriori 95 milioni con l'operazione Bay per avere nel 2018 una quota maggiore di unità mobili. Interveniamo sull'edilizia scolastica, sono stati recuperati 3 milioni dal fondo vincolato quindi daremo chiaramente risposte alle varie emergenze che si sono viste e registrate nelle nostre scuole. Oltre a queste operazioni credo che siano importanti anche l'intervento che si fa sullo Stadio San Paolo che immediatamente aprirà il cantiere, consentirà chiaramente una maggiore e migliore agibilità e non solo, è a rispettare anche quelle che sono le regole europee e quindi ci darà la possibilità di partecipare alle gare internazionali attraverso l'utilizzo dello Stadio. Abbiamo tanti altri interventi nell'ambiente che sono previsti nel nostro max. Insomma una manovra di ben 475 milioni che partono dal 2016 in un respiro che addirittura arriva fino al 2022. Riteniamo di aver fatto il massimo tenuto conto che il 2016 è un anno spezzato in due parti la parte iniziale che è della vecchia amministrazione la parte adesso che è della nuova amministrazione, la nuova consigliatura che si è insediata pochi giorni fa.